Si avvicina a gran ritmo il prossimo impegno in campionato e la Samp lavora a sua da Bogliasco per preparare la sfida di domenica contro il Lecce. Incontro importantissimo quello di Marassi che vede opposta la formazione di Mazzarri ai Salentini di Beretta e lui uccide un ottimo pareggio rimediato la settimana scorsa contro il Milan. Con pagine tignosa il Lecce capace di coprirsi con abilità e con altrettanta abilità a ripartire in contropiede creando problemi agli avversari. La Samp avrà dunque bisogno di un inizio fortunato per sbloccare subito la situazione e poter poi gestire al meglio la partita. E' questa la ricetta giusta per Daniele Franceschini, il centrocampista incontrato alla stampa oggi pomeriggio nella tradizionale conferenza del venerdì. Il numero 19 di Lucerchiato, oltre alla partita di domenica, ha parlato pure della recentissima vittoria negli ottavi di Coppa Italia e della recente sconfitta di Napoli, ultima apparizione in campionato in ordine di tempo per quel che riguarda la Sampdoria. Finché riusciamo a restarci dobbiamo assolutamente provarci perché, ripeto, è un'occasione troppo ghiotta questa della Coppa Italia. Siamo in quarti di finale, andiamo lì contro l'Udinese, ce la giochiamo sicuramente e quindi è un'occasione da non perdere. Poi dal punto di vista il Mist ha avuto anche l'opportunità di provare anche altri giocatori, c'è da dire che ci ha dato anche un po' di morale perché in questo momento ci vuole, perché abbiamo visto che contro Napoli abbiamo fatto una buona gara ma come ci sta succedendo spesso facciamo delle ottime gare ma portiamo a casa veramente pochi punti. Io sono convinto che possiamo ancora recuperare molti punti alle squadre avversarie. E' ovvio che col seno di poi un pizzico di rammarico c'è perché, ripeto, partire con il piede giusto è fondamentale. Lo vediamo adesso, siamo in difficoltà perché non siamo partiti col piede giusto. Però io quello del discorso dei punti non ho preoccupazione perché sono convinto che alla fine andremo nella posizione che ci compete e penso che parecchie squadre che magari stanno facendo bene tireranno un po' il fiato e la classifica riusciremo a riprendere parecchie squadre, questo non sono convinto. Sul fronte societario intanto la Sam prende note le modalità di acquisto e di prelazione per i biglietti del derby del prossimo 7 dicembre. La vendita sarà divisa in due distinte fasi con la prima dedicata interamente agli abbonati doriani di Gradinata Nord e la seconda ai sostenitori Rosso-Blu. Dalle 10 di lunedì 17 novembre gli abbonati di Nord potranno effettuare il cambio posto per i settori distinti e settore 6, solo ed esclusivamente presso Sampdoria Point e Feder Clubs. La prelazione terminerà sabato 22 novembre alle ore 19. Per tutte le altre informazioni è disponibile il comunicato ufficiale divulgato dal club disponibile su www.sampdoria.it Chiudiamo con uno stralcio della lunga intervista che sarà disponibile in versione integrale la settimana prossima sul SampwebTV allo storico team manager della Sampdoria, Giorgio Aiazzone, che proprio in questi giorni compie 30 anni di militanza in blu cerchiato. Una chiacchierata tutto tondo con uno dei personaggi più amati e certamente di maggior carisma nell'intero ambiente sampdoriano. Beh, guarda, niente, chiaramente quando poi è arrivato il presidente Paolo Mantovani, era un sogno, perché io da ragazzino andavo in gradinata, mi ricordo che i cori erano serie A, serie A, perciò ci siamo trovati in una dimensione, veramente un sogno. E allora vivevi, la vivevi in un modo, cioè lavoravi, eri contento di lavorare, magari io con ragione dell'ospitaleri, che adesso è il responsabile amministrativo, magari alla sera stavamo anche fino alle due, alle tre di notte, però era talmente la gioia di vivere quei momenti che non ci pesava, non ci è mai pesato niente, veramente, quello sì. Proponiamo inoltre un divertente siparietto andato in scena durante l'incontro col team manager della Samp. La firma è naturalmente quella di Antonio Cassano, che non ha perso occasione per sfoderare uno dei suoi ormai proverbiali scherzi. Fate attenzione al vetro alle spalle di Giorgio Aiazzone. Non ci sono più, però, niente, sono arrivato come ragazzo e... Cosa devo fare? Tagliate voi. Guarda che hanno cominciato, eh? Eeeh, va bene, quello no, quello no, però, no, no, questo è una mia grande passione, lui, va bene, comunque.